Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, in questo video parleremo dal punto di vista antropologico dei vichinghi. Non erano altro come tutti quanti noi sappiamo che dei pirati temuti, ma sono conosciuti prevalentemente per questo aspetto. In realtà loro erano anche degli agricoltori, dei commercianti e degli esploratori perché furono i primi europei ad avventurarsi nell'oceano atlantico andando a formare numerose colonie con storie differenti. I norvegesi contribuirono alla formazione della Russia, della Francia e dell'Inghilterra, poi formarono anche la colonia della Vinlandia che fu il primo insediamento europeo nel Nord America che poi fu abbandonato e che corrisponde alle aree di Terra Nuva dove c'è appunto Labrador City. Poi fondarono anche la Groenlandia che fu abitata per cinque secoli dopo una sanguinolenta guerra di cinque secoli con gli Inuit, i vichinghi furono costretti come vedremo meglio dopo a battere in ritirata. E poi ancora l'Islanda che ha avuto nella sua storia molti problemi come colonia vichinga per poi superare questi problemi che l'hanno messo appunto a rischio di collasso e diventare uno degli stati più ricchi al mondo. E poi anche le isole Shetland che rappresentano un'altra colonia vichinga molto importante e che furono fondate dagli stessi antenati dello stesso gruppo sociale. Queste varie colonie dei vichinghi come vedremo ebbero ovviamente dei destini differenti, delle sorti differenti in virtù diciamo degli ambienti differenti in base alla colonia stessa. Quando si parla di scienze umane molto spesso il metodo dell'esperimento scientifico di Galileo Galilei non è sempre applicabile e quindi gli antropologi parlano del metodo dell'esperimento naturale che invece è applicabile appunto all'ambito delle scienze umane come per esempio l'antropologia. E diciamo che il classico esperimento naturale può essere visto per la storia dei poliniziani nell'isola di Pasqua come abbiamo visto nei video precedenti che vi invito a vedere ma si può anche applicare, cioè lo stesso tipo di esperimento naturale varie anche per le colonie dei vichinghi. In Groenlandia infatti fronteggiarono gli Inuit che furono in grado alla fine di sopravvivere rispetto invece ai vichinghi che furono costretti appunto a battere in ritirata. Ma cominciamo a vedere un pochettino più nel dettaglio l'espansione dei vichinghi. Nell'Europa medievale dopo il 793 gli Scandinavi si estesero notevolmente in diverse aree, dalle isole britanniche fino al Baltico fino al mar Mediterraneo, arrivarono anche a saccheggiare l'Italia infatti, per arrivare pure fino a diciamo Costantinopoli. E la Scandinavia fu l'ultima regione a essere toccata dalla rivoluzione agricola, rivoluzione agricola che poi anche in Scandinavia comportò la comparsa appunto delle prime civiltà come ad esempio appunto la civiltà vichinga in quanto diciamo la Scandinavia da un punto di vista geografico è sita all'angolo più lontano della mezzaluna fertile e arrivò soltanto nel 2500 a.C. ed era anche lontana dall'influenza della civiltà romana tant'è che a differenza diciamo della Germania che ebbe l'influsso dell'impero romano la Scandinavia rappresentava all'epoca fino al Medioevo uno dei territori più remoti dell'intera Europa perché appunto non ricevette l'influsso romano e l'agricoltura arrivò più tardi proprio perché era molto lontana dalla mezzaluna fertile ma era una terra la Scandinavia la terra madre dei vichinghi che offriva comunque sia due grossi vantaggi e quali sono questi vantaggi? I vantaggi offerti da questa terra erano appunto la ricchezza conferita dalle pellicce, dalle pelli di fuoca e dalla cera d'api che rappresentavano una merce di lusso per l'intera Europa quindi i vichinghi potevano appunto vendere questi prodotti per arricchirsi e poi il secondo vantaggio è che la linea costiera della Scandinavia era appunto molto frastagliata e quindi essendo molto frastagliata rendeva rapidi i viaggi in mare e stimolava lo sviluppo di nuove tecniche di navigazione che permisero ai vichinghi stessi di costruire delle barche veloci ed efficaci per il trasporto delle merci ma non soltanto per trasportare le merci queste barche poi gli permisero ai vichinghi di diciamo attraversare anche l'intero oceano e questo facilitò anche la pirateria con la vendita di pellicce in cambio di oro e di argento quindi questi due vantaggi furono molto importanti come due fattori di esperimento naturale a favorire appunto l'espansione dei vichinghi e la formazione appunto delle loro colonie. Andiamo adesso invece a vedere la struttura sociale dei vichinghi. Gli scandinavi interagirono con vari popoli sia dal punto di vista genetico perché si accoppiavano con le donne del territorio che andavano a colonizzare sia anche a livello linguistico e quindi gli svedesi di loro origini russi, i danesi contribuirono a dare origine appunto agli inglesi e a livello della Normandia iniziarono a parlare anche francese una volta che la andarono a colonizzare e la loro crescita fu dettata da due fattori un'improvvisa crescita demografica quindi un improvviso aumento della popolazione dal momento che nella penisola scandinava la popolazione cresceva lo spazio diventava sempre di meno per accogliere tutti gli abitanti di qui la spinta anche l'esigenza a doversi espandere e a conquistare nuovi territori e quindi il secondo fattore era appunto il bisogno di potersi espandere per i vichinghi si parla infatti di processo di autocatalisi spieghiamo bene che cos'è questo concetto proverò a spiegarvelo in maniera molto semplice ma per poter comprendere meglio la crescita dei vichinghi bisogna appunto andare a spiegare bene questo concetto praticamente non è altro che una reazione accelerata tramite un processo a catena dalla presenza di un enzima enzima che prende il nome di catalizzatore questa è la definizione di autocatalisi in chimica un esempio è proprio l'esplosione della bomba atomica dove i neutroni dell'atomo di uranio distruggono i nuclei e vanno appunto a liberare energia a loro volta altri neutroni provocano la fissione sempre più rapida di altri nuclei e quindi si innesca proprio un autocatalisi quindi una reazione a catena questo è applicabile col metodo dell'esperimento naturale anche ai vichinghi perché appunto nell'espansione di un popolo alcuni vantaggi iniziali come un buon avanzamento tecnologico fungono da catalizzatori e così la sete di nuove scoperte caratterizzò i vichinghi fino ad occupare tutti i territori disponibili e per i vichinghi più nello specifico i due catalizzatori della reazione di autocatalisi diciamo furono una buona tecnologia e la scoperta dell'islanda e della groenlandia in che cosa consisteva la loro tecnologia buona nella capacità di avere appunto delle buone imbarcazioni che li permettevano di fare esplorazioni e conquiste di riscuotere bottini e di avere di fungere anche da spinta per altri vichinghi a esplorare terre via via sempre più lontane questi fenomeni molto simili si verificarono anche per i polinesiani che abbiamo già visto nei video precedenti ma anche per i portoghesi e gli spagnoli quando si lanciarono alla scoperta del nuovo mondo però allo stesso tempo i vichinghi ebbero due fattori che bloccarono ad un certo punto la loro espansione che poi di conseguenza comportarono il collasso della loro civiltà stessa e cioè la battaglia di stanford bridge dove furono sconfitti e la perdita della villandia perché gli indigeni erano troppo numerosi rispetto ai vichinghi e quindi riuscirono a ricacciarli indietro quando i migranti provenienti da luoghi lontani colonizzano una nuova zona che appunto diventa una nuova patria in genere questi immigranti cercano diciamo sempre di mantenere uno stile di vita molto simile a quello della loro terra di origine e quindi essa rimane sempre il punto di riferimento per le conoscenze le credenze i metodi di sussistenza e le organizzazioni sociali e questo accade maggiormente soprattutto quando si conquista una terra disabitata oppure dove ci sono pochi contatti con gli abitanti del luogo come nel caso appunto dei vichinghi negli stati uniti per esempio attualmente pure in presenza di una popolazione drammaticamente più numerosa rispetto a quella dei vichinghi ogni gruppo di migranti tende a mantenere i suoi caratteri culturali peculiari a los angeles ci sono grosse differenze o anche new york tra i valori culturali i livelli di istruzione i lavori svolti la ricchezza dei gruppi etnici che ci sono vietnamiti iraniani etiopi messicani e così via quindi è un fenomeno classico di popoli che tendono appunto a effettuare dei fenomeni di migrazione vediamo un pochettino più nel dettaglio su che cosa era basata l'agricoltura e su che cosa era basato l'allevamento nel popolo dei vichinghi agricoltura e allevamento furono appunto importati nelle loro colonie per quanto riguarda il bestiame ci sono appunto i maiali per la carne le mucche per il latte latticini e i cavalli per il trasporto come dimostrato dai fossili umani ritrovati nelle loro colonie nelle antiche saghe norvegese infatti la carne di maiale era il cibo con cui guerrieri di odino che era il dio della guerra per i vichinghi si nutrivano ogni giorno nel vahalla e i resti animali ritrovati di ossa animali per la metà erano bovini per un terzo erano maiali e per un quinto erano praticamente pecore e anche diciamo capre l'agricoltura non era un aspetto di grosso vantaggio per i vichinghi semplicemente perché era possibile diciamo attuarla soltanto in quei luoghi con un clima per lo più mite l'orzo per esempio era possibile coltivarlo perché era abbastanza resistente al freddo ma altri cereali meno resistenti al freddo come la vene il frumento e la segale era un pochettino difficile coltivarli quindi non sempre riuscivano le verdure come cavolo cipolla piselli fagioli le coltivavano comunque nelle regioni a clima mite così come il lino per i tessuti e il luppolo per la birra quindi i territori dei vichinghi più a nord erano più incentrati sull'allevamento e meno sull'agricoltura in virtù del clima più freddo mentre nei territori più a sud delle colonie vichinghe diciamo quindi nei territori più meridionali in possesso dei vichinghi era diciamo maggiormente praticata l'agricoltura perché il clima mite la favoriva allo stesso tempo i vichinghi non vivevano soltanto di agricoltura e allevamento in realtà come riportato dalle resti archeologici eccetera ci sono anche delle prove di caccia che testimoniano appunto l'attività di caccia da parte dei vichinghi perché era importante la caccia per fornire a loro stessi un congruo e adeguato apporto proteico e quello che cacciavano erano appunto animali e pesci selvatici più nello specifico le foche le renne alci uccelli marini e anche anatre l'uso del ferro da parte dei vichinghi rivenuto in diversi scavi archeologici fu appunto notevole veniva utilizzato da parte dei vichinghi il ferro per costruire strumenti agricoli come aratri pale asce falci ma anche per utensili domestici come coltelli aghi forbici chiodi ma anche per armi spade lance scudi asce armature diciamo che il ferro come lo se lo procuravano i vichinghi in maniera molto semplice facevano degli scavi piccoli per ogni fattoria veniva estratto il ferro grezzo che era depositato sui fondi per esempio delle paludi e poi con del combustibile praticamente questo ferro veniva lavorato per poter ottenere tutti questi strumenti che vi ho detto tuttavia il combustibile soprattutto in groenlandia era carente perché appunto c'erano pochi alberi per via del clima caratteristico della groenlandia e quindi la carenza di combustibile impedì sotto certi aspetti ai vichinghi di fabbricare ferro a sofficienza di avere utensili per la loro sussistenza a sofficienza e questo fu uno dei motivi del collasso anche della civiltà vichinga stessa per quanto riguarda la religione dei vichinghi era una religione basata sui tradizionali della religione germanica per esempio c'era Frey che era il dio della fertilità Thor che era il dio del cielo Odino che era il dio della guerra e quando si stabilirono le terre cristiane diedero inizio a matrimoni misti e abbracciarono la religione cristiana e questi appunto venivano denominati come vichinghi di oltremare queste conversioni religiose contribuirono a diffondersi del cristianesimo anche in scandinavia i diversi destini delle colonie sono dipesi anche dalle differenze ambientali in particolar modo da quattro variabili cioè le notevoli distanze oceaniche la resistenza opposta dagli indigeni l'agricoltura che non era possibile praticarla ovunque come abbiamo detto prima ma soltanto in alcune aree più fertili e l'erosione del suolo e le stazioni infatti diciamo che i segni di erosione del suolo sono molto evidenti per cui come abbiamo visto in questo video riguardante appunto la storia dei vichinghi dal punto di vista antropologico e semplificato come dimostrato dai resti fossili archeologici eccetera 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 la civiltà dei vichinghi fu una civiltà molto importante molto grande perché diciamo si spinse a conquistare una buona parte si spinse diciamo nell'oceano atlantico per conquistare diverse parti dell'america del nord fece appunto una lunga guerra anche con gli inuit e poi ovviamente gli inuit la vinsero questa guerra e diciamo valse come un esperimento e valso come un esperimento naturale molto importante di capacità dell'uomo comunque sia in parte anche di adattarsi anche i climi più più difficili se il video ti è piaciuto io ti invito appunto ad iscriverti al mio canale lascia un mi piace condividi questo video con altri utenti e ci vediamo con uno dei prossimi video nei quali appunto parlerò dell'africa orientale del ruanda dal punto di vista sempre bio antropologico ciao